Una situazione esplosiva, quella definita dal SIULP, una delle forze sindacali del comparto della Polizia di Stato, questa mattina in conferenza stampa. O al commissariato di Fano arriveranno a brevissimo termine nuove assegnazioni di personale o siamo a rischio di chiusura serale e notturna. Nei prossimi mesi, infatti, otto colleghi di grande esperienza, per raggiunti i limiti d'età, lasceranno il servizio. In pratica i vertici di tutti gli uffici e settori del commissariato saranno azzerati senza che ci sia in previsione dal Ministero un rimpiazzo per loro. Tradotto in soldoni, il rischio, secondo il sindacato, è che la sicurezza dei cittadini e il presidio del territorio siano a rischio. Una situazione inaccettabile se aggiungiamo anche il fatto che il commissariato di Fano, 60.000 abitanti, è l'ufficio di polizia con l'età anagrafica più alta di tutta la provincia, 51 anni di media. Ora, fermo restando che l'organico attuale di 41 persone, che è una cifra incredibilmente bassa per la terza città delle Marche, non è una situazione ben dimensionata e con metà delle forze in campo che è impegnata a garantire H24 la volante in strada, sottoponendo però gli uomini a doppi turni, spesso massacranti e a saltare i riposi settimanali. Solo l'alto senso del dovere e l'abnegazione al proprio lavoro ha fatto sì che questo manipolo di professionisti garantisse la sicurezza della città senza particolari criticità. Ora, l'uscita di scena l'anno prossimo di queste forze rappresenta un durissimo colpo, dice il sindacato, all'attività operativa ed investigativa di tutto il commissariato. Il problema però è che da tempo veramente non viene più assegnato neanche un operatore e quando andranno via queste dieci persone il commissariato rischia veramente il collasso, al punto che noi siamo convinti che se non verrà assegnato il nome personale ci sarà solo una strada da percorrere, chiudere il commissariato nelle ore serali e notturne. Nel prossimo weekend arriverà il ministro dell'interno Salvini, il nostro principale referente, quindi vogliamo approfittare proprio di questa occasione per rivolgere un appello al ministro Salvini, che sta dimostrando di essere comunque particolarmente sensibile alle problematiche delle forze di polizia, vogliamo rivolgere appunto un appello al ministro affinché invii nuove risorse al commissariato di Fano. Chiaramente farò di tutto per mettere in risalto quelle che sono le criticità della sicurezza del nostro territorio, sia del commissariato di Fano sia della questione di Pesano. Le promesse preelettorali dell'ex ministro sono un po' cadute nel vuoto, sono rimasti un po' amareggiati per questo? Sì, in effetti l'ex ministro Minniti aveva promesso che sarebbero arrivati 30 uomini, noi abbiamo sempre detto 30 uomini se ce li mandano per due settimane è come quasi non mandarceli, a noi servono 30 uomini strutturali assegnati in maniera definitiva, chiaramente non ci è stato assegnato neanche un dipendente per adesso.